E' poco prima della mezzanotte e ad ogni dato che arriva si alza un urlo dal comitato elettorale. Pannullo è avanti su Cimmino ovunque. Subito dopo le 24 cominciano così i primi brindisi. A Via Alvino sono sempre di più i sostenitori che accorrono. Troppa gente, un fiume. Pannullo nel mentre rilascia le prime dichiarazioni da sindaco. Basta un altro urlo di vittoria e il corteo si dirige verso Palazzo Farnese. Ad entrare è solo il sindaco. Mancano dieci minuti all'una. Pannullo resta nel comune un quarto dura, il tempo di un saluto con la segretaria generale. Ad aspettarlo ancora consiglieri comunali e supporter. Baci, abbracci per tutti. All'1.30 la festa è finita. Comincia adesso il lavoro per il rilancio della nostra città, Castellammare di Stabbia.